Grazie a tutti. Perchè questo luogo è un luogo importante e carico di memoria per il tema che affronteremo questa mattina. A me fa molto piacere incontrarvi questa mattina e soprattutto mi fa piacere sapere che il lavoro che iniziamo stamattina è un lavoro che proseguirà nell'arco dei prossimi mesi ed è un lavoro su cui tutti quanti ci misureremo. Quindi teniamo presente che oggi iniziamo un lavoro e un livello anche di nostra conoscenza di questo importante documento collettivo che è la nostra Costituzione che nel corso dei prossimi mesi evolverà. Probabilmente voi non lo sapete ancora ma da qui alla prossima primavera quando il lavoro sarà concluso ciascuno di voi avrà dentro di sé qualcosa in più di quello che ha in questo momento di conoscenza, di consapevolezza e di maturità su questo tema. Allora mi fermo adesso, non mi sono presentato, io mi chiamo Raffaele Liguori, sono un giornalista e lavoro a Radio Popolare e sono stato invitato qui dalla Fondazione Franceschi che ringrazio. Che ringrazio non soltanto per questo progetto ma per i tanti progetti che cura e anche qui ne parleremo poi più tardi nel corso della mattinata. Do la parola al Presidente della Società Umanitaria Alberto Giannuzzelli, prego, buongiorno anche a lei. Grazie, benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti agli illustri relatori, grazie all'assessore Laura Calimberti che ci gratifica della sua presenza e soprattutto ha dato il patrocino a queste iniziative. Grazie ai relatori, benvenuti a tutti voi. Sono felice perché vedo questo salone con tante facce giovani, con tanti ragazzi così come è avvenuto 63 anni fa forse nel 1955 quando uno dei padri della Costituzione in questo contesto fece un discorso ai giovani della cattolica e ai giovani milanesi. Parlo di Piero Calamandrei. Questo, così come diceva chi mi ha presentato, è un luogo pregno di memoria e pregno di significati. In questo luogo, in questo contesto, nella società umanitaria sono stati messi i prodromi dell'articolo 3 e dell'articolo 34 della Costituzione. Poi qualcuno vi dirà che cosa sono. L'articolo 34, pensate, è quello che dice di eliminare qualsiasi elemento che crei ostacoli alla crescita e alla dignità dell'individuo. Nel 1893, il nostro fondatore, nello statuto e nel suo disposto testamentario, indicò proprio queste prerogative. Sono contento perché anche in questo luogo nasce quello che dicevo i prodromi dell'articolo 3. Beh, tutte queste cose non possono far altro che farmi felice, ma mi fanno felice soprattutto per la Cristina Franceschi che con lei, con lei da anni ragioniamo su determinati temi, abbiamo ripreso un discorso che forse era stato interrotto da troppo tempo. Io non posso far altro che dirvi che guardate la nostra Costituzione come un faro guida. Intorno a questo tavolo vedrete dei servitori dello Stato, dei servitori dello Stato che allorché hanno finito i loro compiti istituzionali, si sono dedicati a trasmettere questo tipo di messaggio. Prendete esempio da loro. Un'ultima considerazione, c'è un diritto che la nostra Costituzione non disattende, che è quello del diritto alla felicità. Qualora ci fosse questo diritto e fossimo felici, tutti gli altri diritti verrebbero meno. Allora io l'unica cosa che posso fare è di augurarvi di essere felici e soprattutto di avere una vita felice. Grazie. Grazie ad Alberto Giannuzzelli che è il presidente della società umanitaria, quindi è il nostro ospite di questa mattina. Voglio adesso introdurre e salutare Cristina Franceschi che è la presidente della Fondazione Roberto Franceschi. che è il soggetto che ha elaborato, pensato questo progetto importante sulla Costituzione, così come tanti altri progetti che hanno a che fare con il lavoro, la povertà, di cui la Fondazione Franceschi nella nostra città è un pilastro, è un'istituzione della cultura civile e politica di questa città. Allora do la parola adesso a Cristina Franceschi per il suo saluto e poi adesso tra un momento aspettiamo ancora una classe che sta arrivando, proseguiremo con i nostri lavori di questa mattina. Prego Cristina. Grazie, grazie della presentazione, buongiorno a tutti. Intanto volevo prima di tutto fare dei ringraziamenti. Volevo ringraziare prima di tutto la società umanitaria che ci ospita in questo luogo, come diceva prima il presidente Giannuzzelli, in questo luogo pregno di storia e di significato, è veramente con emozione, è la prima volta che parlo in questo luogo e sento veramente, come dire, una responsabilità alle spalle. Quindi ringrazio la società umanitaria che ci ospita e ringrazio il presidente Alberto Giannuzzelli. Grazie all'assessore all'educazione e istruzione del Comune di Milano, Laura Galimberti, che poi ci porterà i suoi saluti. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del libro La lettura guidata alla carta costituzionale, di cui oggi parleremo, e che sono qua presenti. Intanto un ringraziamento ad Alessandro Basilico, che sin dalla prima edizione di questo libro ha curato i commenti di tutti gli articoli, ma l'ha fatto in maniera entusiastica, fresca, mettendo veramente tutto il suo entusiasmo giovane, allora era ancora un po' più giovane, quando è iniziato, ma anche adesso è un giovanissimo procuratore, magistrato, insomma veramente grazie ad Alessandro. Grazie a Colombo, che fra poco ci raggiungerà, che ha dato ulteriori suggerimenti ai commenti sugli articoli. A Unida, che ci ha sempre supportato in questo percorso, ringrazio Maria Chiara Fugazza, per i suoi suggerimenti sempre puntuali e approfonditi che ha voluto condividere con noi. Ringrazio Deborah Millucci, che anche lei ci raggiungerà tra poco, per la sua competenza e disponibilità che ha sempre avuto, anche in tutti i diversi interventi che noi organizziamo ogni anno, in tutte le scuole in cui portiamo i nostri progetti. Grazie a Raffaele Mantegazza, non solo per la preparazione e la passione, ma anche per la sua capacità di trasmetterla in modo entusiastico ai ragazzi, e lo sentirete tra poco. E infine vorrei fare un ringraziamento a Lidia Franceschi. Lidia Franceschi è mia mamma, è quella che ha l'artefice della nostra fondazione, e lei ha sempre... Grazie. Anche lei sentirete una parte del discorso di un suo intervento. Lei ha sempre espresso e trasmesso a tutti l'entusiasmo, l'amore, ma soprattutto il rispetto verso la carta costituzionale. Tant'è vero che il nostro primo libro, che è stato editato e distribuito nelle scuole, più di 25 anni fa, fu proprio la Costituzione. Vorrei fare un ringraziamento anche a Marco Donati, che ha curato la parte grafica, e a Luca Cassamagnago, che ha letto e riletto con cura certosì nel testo la ricerca di qualche piccolissimo errore. Forse qualcuno gli sarà anche sfuggito, anche a un eroe sfuggito qualcosa, e che coordina il progetto Costituzione. Ringrazio Marco Brinzi, che sarà qua e che vi leggerà una parte del discorso di Calamandrei. E ringrazio Raffaele Ligore, che ci condurrà stamattina in questo viaggio. Ringrazio voi insegnanti, e ringrazio soprattutto voi ragazze e ragazzi. Grazie a voi. Perché questo nostro incontro è rivolto proprio a voi. Perché? Volevo solo soffermarmi, perché abbiamo voluto rieditare il... Ecco, ciao Deborah. Allora, perché abbiamo voluto rieditare questo, la lettura guidata della Carta Costituzionale. Negli anni ne abbiamo distribuite più di 25.000 coppie. Con queste arriveremo a 30.000 coppie. Lo scopo che c'eravamo prefissi era quello di fornire uno strumento, soprattutto didattico, per approfondire la conoscenza delle regole fondamentali, che sono alla base nella nostra convivenza. E poiché, diciamo che, moltissime scuole, nel momento in cui avevamo esaurito le coppie, ci hanno richiesto un'ulteriore edizione, quindi abbiamo pensato che di rivedere i commenti, di riaggiornarle e quindi di poterla rieditare. Il motivo è perché pensiamo che conoscere la Costituzione, i valori e i principi fondamentali descritti, sia fondamentale per la crescita di ognuno di noi. Ma non solo, pensiamo che sia importante comprendere il ruolo di ciascuno all'interno della società, scoprire il senso della propria identità e dell'appartenenza alla società civile. Pensiamo che sia fondamentale distinguere i comportamenti legali da quelli illegali. Pensiamo che sia importante comprendere che in una società civile l'organizzazione della propria vita personale e sociale si basa sul rispetto dei diritti e dei doveri. Pensiamo che bisogna comprendere quali siano i valori fondamentali su cui si basa la democrazia e che è necessario impegnarsi affinché i valori democratici siano perseguiti, protetti e anche diffusi. Crediamo che sia importante che voi ragazzi possiate diventare dei cittadini consapevoli ognuno con le proprie opinioni politiche, ognuno con le proprie convinzioni, ognuno con le proprie radici, col proprio colore della pelle, con la propria provenienza, col proprio genere, nel rispetto di tutti, nel rispetto della dignità sociale, come sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Ho scelto come titolo dell'incontro La Costituzione è un pezzo di carta, estrapolandolo una frase dal discorso che Calamandrei fece proprio in questo luogo, come prima ci ricordava il presidente Alberto Iannuzelli. Ecco, perché ho scelto questa frase? Perché io spero, cari ragazzi e cari ragazzi, che la Costituzione entri a far parte della vostra vita. Io spero che sia quel terreno solido e fertile in cui le vostre ragici si possano sviluppare. Io spero che diventi il tavolo dove possiate condividere il vostro presente. Io spero che sia quell'orizzonte in cui vi possiate proiettare per conquistare il vostro futuro. Sta a tutti noi non farla di rimanere solo un pezzo di carta. Grazie, buon lavoro. Applausi Grazie. 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 Grazie.